Musica Hello guys, Renderan here Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Siamo su FTB E allora, iniziamo a dire un po' di cose Prima di tutto ho registrato due puntate In cui ho fatto tutto questo impianto qua Che va su per lo smistamento, vedete qua E niente, praticamente è un macello E nulla, ho perso tutto per un problema audio Allora, abbiamo fatto l'ender chest gialla 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 E l'avevo aggiunta giù, nel nether Nel computer che ha messo l'hook con tutte le combinazioni Qua come vedete ho collegato il query che è iniziato a scavare come un dannato E facciamo, cancelliamo sta roba Inutile, ok E andiamo a vedere un attimo cosa è successo Cerchiamo un attimo di nanna Vi spiego tutto quello che ho fatto in queste due puntate E più che altro questa puntata è mezza E poi vediamo Allora, prima di tutto ci mangiamo una pagnotta Ok, allora, qui ho aggiunto un altro redstone energy cell Perché essendo su un server, ovviamente I motori funzionano tutto il giorno Quindi è tutta energia sprecata quella che non utilizzo tramite i motori Allora, cosa fare? Allora, vedete lì c'è il nostro bellissimo energy cell Che mi sa che si è fermato perché è finito infatti Perché è finito Allora, facciamo così Exit menu Aspettate Lo togliamo Così E andiamo a prendere l'altro Che gli mettiamo vicino E purtroppo Purtroppo E continuo a dire Pull to a plus E molto, davvero Avevo fatto una cosa molto carina Anche perché eravamo andati nel nether Le scorse puntate Quelle due che ho perso, intendo E vabbè Purtroppo C'è una cosa che capita Un errore renoso Che cercherò di non fare più Ma più che altro Non è stata colpa mia Ma è stata Colpa di Dxtory Che ha sdrogheggiato In maniera molto eclatante Allora Ci togliamo questo Mettiamo questo a carichere Andiamo Allora Allora Andiamo a mettere questo vicino al query E vi faccio vedere come le funzioni Come le va veloce Poi Mamma mia come va veloce guys È una cosa impressionante Davvero Mi sono rimasto tipo stupefatto Quando l'ho visto E detto Oh my god Ma quello si che è veloce E quindi nulla Facciamo un attimino Questa roba qui Allora Facciamo così Gli diamo un output Di 100 megajoule Due secondi Ok guys Allora Purtroppo mi stava chiamando mia mamma Spero non si sia sentito Comunque E beh Nel caso Avete sentito mia mamma Che mi chiamava Tanto Non è un segreto Il mio nome È un segreto La mia identità Tan 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 Allora Messo qua Output al 100% Guardate quanto cazzo Va veloce sto query Vai query Vai Bello Vai Ma quanto è arrivato Più che altro Altezza Altezza 10 E tra un po' Le finì Tra un po' Le finì Vorrei capire più che altro Solo una cosina Adesso Vogliamo aspettare Che finisca Non lo so Perché sono Sono curioso di sapere Se quando finisce Il tank Qui Si continua A svuotare Oppure no Questa è una cosa Molto molto interessante Che vorrei capire Adesso ci aspettate C'è uno scheletro Che si fa Un bagnetto nell'acqua Lo uccidiamo L'è morto Perfetto Vediamo 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 Mica mi trovi Di diamanti Diamanti No No Smeraldo Ferro Copper Che delusione Mi piacciono I like diamond Allora Intanto Intanto Facciamo una cosina Molto simpatica Mentre lui finisce Torniamo A A craftare A casa Vorrei Craftare Un Ender chest O due Ender chest Vediamo un attimo Sempre gialle 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 Che sono Le chest Di casa Intanto vediamo Qua si sta riempendo Dovremmo fare Un filtro Per dire Che la cobblestone Va Deve andare Solo dentro Una parte Tipo O un retriever Anche Molto interessante Anche il retriever Un'opzione Molto molto interessante Allora Dopo Poi ci penso Allora Stavo dicendo Ender chest Ho fatto un po' Di blades Come potete vedere qui Ne ho fatti Davvero un bel po' Yee Yee Ok Ce ne servono Otto Poi ci servono Quattro Otto Di ferro Per fare due Due Peerl Due Peerl Si Che sono due Peerli Praticamente No Devo fare due Ender pearl Guys Ender pearl Allora Facciamo Così Facciamo così Guardate Mettiamo il ferro Così No Facciamo così Perfetto Facciamo due Ender pearl Che ci servono Perfetto Poi prendiamo un attimino Il crafting Perchè non me lo ricordo Ovviamente Allora Ci serve dell'ossidiana E ne abbiamo Quattro Perfetto Poi ci servono Dei blades Che abbiamo Lender Pearl 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 Che abbiamo Perfetto Vanno sotto Ovviamente Sbaglio Come al solito Prendiamoci questa roba Chi La facciamo diventare Lana Lana Perfetto Ce ne servono due Quindi noi Ne prendiamo Due Perfetto La mettiamo qua E ci servono Ci servono Due chest Due chest No Parliamo un po' così A parte gli scherzi Facciamoci Due chest E vediamo Di Andare A piazzicarle Poi per I nostri Bellissimi Experimentis Nessun tipo Di esperimento In realtà Solo per Le nostre Turtle Questo che avete appena Sentaitus Sono di qualcuno Quei blades Andiamo a prendere Degli altri Fiorellini Gialli Che se non mi sbaglio Sono qua dietro Qui da qualche parte E quello Avete sentito Poco fa E Il mio telefono Ovviamente La mia Ragazza Che mi cerca La salutiamo Tutti insieme Scrivetemi Nei commenti Ciao ragazza Di renna E Salutiamo tutti insieme Che mi cerca Per chi vuole le sue Attenzioni Ok Abbiamo fatto I nostri coloranti Facciamo Facciamo Il tutto ciò Andiamo a colorare L'altra cesta Colorare L'altra cesta Colorare L'altra cesta Colorare L'altra cesta Basta 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 Perfetto Basta Basta Fagioli con la pasta Dicevano un tempo Forse Boh chissà Allora Mi sa Mi sa Che l'è finito Il query Andiamo a vedere Il query Corri Ho rilanciato Il meaning drill Oh cazzo Oh shit Ok Ho fatto Quella Questa sarebbe una cosa Tipo Da 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 segnare Tipo Negli annali Il lancio Del meaning drill Di Ren Vediamo Qua continua a scendere No Si ferma Molto interessante Il fatto che si ferma Una volta che Il nostro Il nostro Tutto ciò Si è Disabilitatus Allora Cosa abbiamo Da prendere Di molto interessante Qua Smeraldi Ci possiamo fare Le accette Con gli smaraldi Ormai Serva solo Quello Mi avete detto Di farmi Una cosa Molto molto figa Che a massimo Lo facciamo Nel prossimo episodio Per tagliare Gli alberi Che è Il Le Perfetto La Motosega La motosegola Ok Allora Fatto this Fatto this Diciamo Così E dai Spaccati Ci voglio sempre Sei anni Per rompere L'ender chest Questo non si rompe Questo si rompe Questo si toglie Così Così Ok Sbaglio sempre Tasto pure Per quello Allora Io direi Fermi Prendiamo il query In mano Il query In mano Qui Non so perché Ma non si vede Quindi 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 Lo mettiamo qui Ok Allora Rimettiamoci sopra Il nostro tubo Poi Sopra il tubo Mettiamo Una delle tre Ender chest Ender chest Ho detto Sopra Perché poi Dovrei Ma se lo metto Proprio sopra Metto sopra L'ender chest Così Non è uguale Penso di sì In teoria Vediamo L'output L'output È già A bomba Vai 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 Bellissimo Come fa Vabbè Mentre il nostro Il nostro query va Noi mettiamo di fianco Le nostre Tourtless Tourtless Da qui Va Allora Excavate 5 Buona Via Buona la prima 1 2 3 4 5 Mettiamo qui l'altra Excavate 5 Via Bella di papino Ok Ce l'abbiamo tutte insieme Bella qui Oh Perfetto Vedete che cosa carina Oh Finalmente Abbiamo Un sistema Che le funzioni E Minchia se le funzioni Bellissimo Molto molto figo Molto molto figo Ok ci piace È diventato tutto un buco Quella zona lì Ormai la costa è costante Stavo pensando anche di fare Un'altra stanza sotterranea Per spostare Tutta questa roba Che c'è sopra al tetto Spostarla sotto Che sarebbe una cosa Molto molto figa Allora Qua intanto è andato Qua si sta ricaricando Con una velocità Di merda Eh Sì Volevo dire impressionante Ma avrei mentito Come pochi solo Sanno fare E io stavo pensando Che se cosa potremmo fare Guys Potremmo mettere Tipo un retriever Qui Oppure no Far passare sotto I tubi Cioè sotto le scale I tubi Mettere tipo Un retriever Qui Qui tipo E poi ci mettiamo Un recycler Che fa lo scrap Che dite Secondo me È una cosa Molto molto Faiga Da poter fare Però 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 Niente Mass fabricator Perché se no Non lo teniamo Con l'energia Però Però Il fatto Del recycle Sarebbe molto utile Perché ci toglie Tanta tanta Cobble E ci fa lo scrap Con cui possiamo fare Le scrap box Giusto Scrap box No Scrap Ok Che si fanno Con tutto scrap Poi non so come si usano Però vabbè Ok guys Allora Quello sarà Il nostro prossimo Progetto Quindi guys Noi ci sentiamo In un prossimo video E enjoy E che la rena sia con voi Bye bye Lasciate un mi piace Un commentino Passate da Luke Al 4316 Quinti 108 Kimberna Smart Chris Kron Al 75 Oh mio Dio Bye bye